Il panettone ha lievitato, in verità ha lievitato anche, passate neanche 5 ore, 4 ore e 3 quarti, però l'ho messo a 28 gradi in stufa, al 75% di umidità, quindi ha spinto diciamo, se ha temperatura ambiente 6, 7, 8 ore comunque viene su. Eccolo qua! Quello continuiamo la cottura. Temperatura, al cuore, 94. Vedete che collassa, quindi va subito girato. E lo giriamo. Guardate, meraviglioso, bellissimo.